Tu la sei solo e devi solo fare affidamento sulle tue forze. Perché anche aspettando due, tre, quattro ore il congelamento continuava a camminare. Non pensavamo che fosse così facile morire. Lassù nessuno può sentirti urlare. Lassù nessuno può sentirti urlare. Dove siete? O forse sì. Lascia le bombole, torna giù! Più di 8.000 metri, 40 gradi sotto zero. Le forze se ne vanno. Una buca nel ghiaccio per restare aggrappati alla vita, poi il trionfo. Prima della vittoria erano un tipo di uomini e dopo la vittoria un altro tipo di uomini e un terzo tipo di uomini quando sono subentrati in la smedia. Il K2, 8.616 metri di roccia e ghiaccio. Nessuno negli anni 50 poteva immaginare che gli italiani avrebbero conquistato quella vetta. era un sogno difficile. Mica! Seguiteci! Seguiamo, seguiteci! Andremo a scoprire i veri misteri della neve a Valermond. Siamo qui rientri oggi per... ...inveare il terzo di Fatima. Attenzione, mica, la neve mi spaccia, sta piuttosto a fattiglio. Ci sta scoplando, ragazzi! Ci sta scoplando, ci va l'è? L'Oieti, l'Oieti! Ci sta scoplando, ci sta scoplando, ci sta scoplando, ci sta scoplando, no, qui in macchina non fa. Olè! Nessuno è stato qui! Che cosa allucinante!